La possibilità di realizzare una serie dedicata alle famiglie, dedicata ai ragazzi, è un immenso valore. E quindi il mio primo ringraziamento va proprio alla provincia che ha sostenuto, che ci ha servito, appunto, di essere qua anche alla terza edizione. Così come ai comuni, questo è un progetto di rete e anche quest'anno i comuni che hanno avuto, appunto, sono stati numerosi rispetto alla proposta che è stata passata, sono appunto quest'anno i 9 i comuni che hanno avverito e la rassegna passerà.